Allora, gioca online. Sì, penso dovrei fare quella versione di prova. Aspetta che vediamo se devo invitarti io in qualche modo. Sì, a me dice questa è la versione di prova. Puoi giocare solo se si riceve l'invito di un amico in possesso della versione completa. Ok. Ok, invita. Eccolo qua. Ecco qua. Allora, aspetta che ti sto invitando. Dove sei? Dove sei? Ti dà fastidio l'audio? Non lo senti. Ma per il momento non lo sento lì. Ok. Ok, ti ho invitato. Ok, adesso accetto. Sento, abbassa il volume di gioco. Forse devo alzarlo un po' io. Non lo sento. Ok, si sta commettendo. Ok. Va bene, avvia il gioco. Sì. E Vincent. Cosa è il tuo avvenimento dopo questo? Non so. Non ho pensato davvero. Non ho pensato davvero. Non ho pensato davvero davvero? Non ho pensato davvero. Come si è la voce di Max Payne? Ahah. Non ho visto la differenza tra di pensare cose e di essere luce, Leo. Tu impii che non sono luce? Voi le parole. Non le mie. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. I can't argue with that. Ah. Ma ti fa scendere il personaggio in base alle cose. Ma tu ce l'avevi in inglese o in italiano? No, io in italiano. Ah, il mio era in inglese. Vabbè. Ma, aspetta, no, aspetta, aspetta. L'audio è in inglese, ho il sottotitolo in italiano. Ah, ok, allora si, guarda me. Io ho sbagliato a parlare, scusi. Nazionale, disciplinato e risultato. Allora. Se può essersi lavorato in economia e aver sposato la sua fidanzata al liceo, Vincent, ha trovato un impiego in banca. La promessa di soldi facili ha finito con lo venale della vita quando ha deciso di farsi coinvolgere nel mondo del crimine organizzato. L'altro dice... L'altro, rapina, aggressione, furto aggravato. Scontato sei mesi su otto anni. Sicuro era scivido ironico. Leo è cresciuto in uno fanotrofia ed è entrato nel mondo del crimine in giovane età. Quando cercava di rubare un famoso diamante andò tutto in malora. Ora deve uscire di prigione e rimettere le cose a posto per suo figlio. Io sceglierei Leo. Va bene? Sì, dai, io faccio Vincent. Cazzo me ne frega. Va bene, Enrico. Tanto Vincent mi sa che mi piace di più, va. Va bene, dai. Va bene. Ok. Sì, oddio, in realtà di rushibile forse era meglio per te. Eh, vabbè, ma niente. Esatto. Ma niente. Sì, tanto uno o l'altro non cambia niente. Magari c'hai sezioni diverse del gioco, probabilmente. Sì, però essendo il schermo condiviso, cioè puoi vedere quello che fa l'altro. Iniziamo adesso. Sì. È come se giocassi tu, cioè se giocassi un giocatore solo, più o meno. Sì. Ok. Fantastico. E' da un'errore. Sì. Tornare il gioco sotto. Sì. Ok. Sì. 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 Sì, c'è un po' di Gia. Oh, questo è uno dei tuoi, Ricky. Ah, tu sei appena arrivato, invece io sono già lì, non c'è. Sì, 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 sicuramente. Inchia se è strano, porca vacca, oh, faccio vedere. I tasti di colore giallo interattivi non mi piace proprio, neanche i sottotitoli. Non si vede niente. Cosa che a me non piace lo split screen, però vabbè. Ma poi io posso parlarci. Noi, sei ok? Che vuoi? Stai strong. Tu pensi che io sono strano? Tu pensi che io sono un p***, eh? Noi, tu sai se stanno, perchè io f***o le persone. Io f***o le persone f***o le persone f***o. Certo? Sì, sicuramente ti f***o. Buon saluto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no I vestimentati davanti al crocifisso Matteo Ah infatti, guarda, aspetta Proprio io questo qua, no? Oh guarda, guarda, lo posso anche, aspetta Adesso lo metti al contrario, tipo Adesso lo spacca, guarda No, lo metti in un'altra Ah io sono a 48, tu da 49 Sì, vabbè immaginavolo, sono solo vicino, c'era da 20 anni Ok Lio trovo appunti di interesse forse ti ho visto si sei tu vedi che ti vedo dalla mia schermata non c'è vedi che hai hai guarda guarda orge vabbè che città hai guarda 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 E' una cosa che vuoi? E' un'escrita che vuoi? Non è quello che voglio, è quello che vuoi. E' quello che vuoi. E' un pezzo di piazza che è piaciuto se è in fuori. Può essere in fuori, ma mi ha fatto ancora bene. Il fatto è che mi ha fatto davvero bene per te uccidere. E non mi piace molto. Quindi è una situazione per me. E' un'escrita per me. E' un'escrita. Che in there, il nuovo pesce! Ehi, hey, what the hell? What are you doing? Go, Dragomir! Kill'em! Ha? Take'em down! Gli uffi! C'è un'escrita, c'è un'escrita. Oh, oh. tu non la cena a tua testa io lo so a tuo test mh mi vedo un tiro a 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 Oh c'è roba, i calci con gli altri danciati oh, da Spencer Trenzillo, ragazzi madonna, ci sta, vai chissà cosa gli ho fatto appunto ma non ho capito, è arrivato nero da rio infatti come on, i don't got all day all right, thanks yeah, yeah, next ora sono curioso di vedere se provo a essere dietro vicino a me, non so come succede no, non ho capito no, non ho capito non ho capito E pensare che ho fatto aiutami, pensa che l'altra opzione era usare la forza Quando ti arriva l'altro, oh no Ecco solo, oh no no qui, ora è l'altra Non so, non so, non so Non so, non so, non so, non so Eh, prendi tutto I'LL KILL YOU! Come on scumbag! Come on, come on! Where you going? Now I got your corner! Fuck you man! We're gonna cut you! Come closer! Let me carve you up! If that'll slow me down when she ain't been born! Why?! Fuck you man! We're gonna cut you! Now I got your corner! I got your corner! Come on! Come on! Come on! Who wants to die first? You? Yeah! Come on! Come on! What the fuck? Take this! 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 Let's go! Take this! Oh Be all right, just lay down and rest for a while. Yeah, yeah, thanks Hey, hey, I'm leo vincent. Listen. Thanks. Don't mention it I mean it man. What's your beef with that guy anyway? Uh, let's just say it's a long story But don't worry about him. He's out of picture now Could you do me a favor? Like what? That's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it. That's all Sorry, I'm not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, wait, wait What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice All right, I'll help you Just don't get caught Okay, keep your eyes sharp Mi chiamo che cazzo Allora Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her No, 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 no No, Ricky, mi sa che dove stare Sì, adesso trovo non ho letto Letto Sembra la cosa di residentivo che mi hai fatto vedere Eh sì Vai, 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 Ricky Sì, adesso vado Ah Do you know when I'm getting out of here? I need to wait for that car Is that why you called me over? I need to wait for that car Yeah, sorry But I'm a bit bored here, you know Back to work I... I don't know It's not up to me, but I'm sure it won't be too long Okay, I'm going to get out of here Okay Thank you Bye, Ricky Mi viene Sorry, I'm just getting restless here That's understandable So, uh... How did you end up working in a prison? Shit, Vincent needs to do something about that car I've lived there by my whole life, so it just kind of made sense Okay It's hot Look what you made me do It's hot It's hot This thing is never going to come out But I mean, I'm going to go out soon Yes, we're going to go out of here Anything else? Yeah, I've got this terrible pain I mean, I need something for it What type of thing? I can't really place it I mean, it feels like it's all over You know? It's really bad Oh... Oh... Come on Cazzo, è anche difficile però, Ricky Perché magari devi stare attento anche all'altro È vero Infatti, non ci avevo fatto caso che... Tu potevi tipo di storo della guardia Hey, what are you up to? Nothing Let's move Yeah, sure Cazzo l'ho buttato Vabbè Primo cielo che passa lo butta via So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to I don't know what you're talking about Come on now Come on now Look, I appreciate what you did back there But you need to back off Hey What? I can handle myself What about Harvey, then? What the fuck? What the fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common Let's just say that you and me have something in common Let's just say that you and me have something in common With or without you, I'm going after him But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we weren't together And you know that Let's just say that you and me have something in common Ma che cazzo è alberi ricky? Può essere che c'è il pelato con la barba Eh, appunto sto dicendo il pelato? Non lo so, i nomi non mi pare ne avessero fatti Boh, adesso no In realtà è il secondino È il mio plan And i decide what goes down You got that? Sure Whatever you say I mean it, man You fuck this up, i'll kill you myself Yeah, i get it So what's your plan? You'll know soon enough Questo dovevo farlo io ricky Eh sì Eh sì 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 Grazie a tutti